E dunque vicinissime in classifica ma con l'umore agli antipodi Cervia e Massa Lombarda si affrontavano quest'oggi col Cervia che aveva effettuato una bella rincorsa riprendendo quota dopo il brutto avvio di campionato. Un Cervia che ci prova subito a inizio match con questo diagonale provato sull'assist d'Indoca da Brunetti bloccato però è respinto dalla portiere e dalla parte opposta si distende molto bene il Massa Lombarda con Dergai che entra in area di rigore e batte il portiere Brajón. Una controfuga quasi da palla nuoto per quanto riguarda il numero 8 della Massa Lombarda che consente ai suoi di portarsi in vantaggio e di gestire un match che si mette ancora meglio al ventunesimo cross al bacio letteralmente. Quello effettuato da parte di Braccioli e il colpo di testa è vincente di Ghini 2 a 0 dunque si presenta così il Massa Lombarda in casa di un Cervia che deve sicuramente cercare una reazione ma fatica. La squadra padrona di casa ci prova con questa conclusione alta in questo caso da parte del numero 22 si trattava appunto di Mancini e invece il Massa quando attacca è pericolosissimo. Un'azione quasi da rugby in questo caso il salvataggio sulla linea sulla battuta di Colino che era stato perfettamente servito da Tosi. Un primo tempo che non è ancora andato in archivio anche perché il Massa continua a spingere sulla sinistra cross al centro di Dergai, palla respinta, poi ancora la lotta sul pallone in due si avventano. C'è il fallo segnalato dal direttore di gara, il fallo commesso da Vitali su Giuliani, questa è la segnalazione molto contestata, lo affermiamo soprattutto dall'allenatore e dai tifosi presenti allo stadio dei Pini. La trasformazione però è quella vincente, Colino 3-0, punteggio già pesantissimo a favore della Massa Lombarda in casa del Cervia, punteggio con cui si va al riposo, con cui si ricomincia a giocare in un secondo tempo che perde di spessore, può così approfittarne ancora il Massa Lombarda, cross di scala, colpo di testa di Tosi. E a questo punto il punteggio è definitivo, lo 0-4 con cui la partita va praticamente in archivio al diciottesimo, abbracciato anche dal tecnico Marco Scozzoli, il giocatore del Massa Lombarda autore del gol che vale il poker, conclusione di Lago completamente sballata dalla parte opposta all'ultima chance. È per il Massa Lombarda che prova a entrare in area di rigore, a cercare una conclusione insidiosa di Keita, respinta dal portiere Brajón in corner e poi, come detto, scorrono i titoli di coda di questo match che il Massa Lombarda ha letteralmente dominato, con un punteggio davvero eloquente, il 4-0, che come vediamo si sta per profilare fino al triplice fischio, 4-0 nel derby contro il Cervia.